Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel canale di hardware app dove adesso farò un unboxing di questo Sempron 3850, Sempron 3850 che è una APU, quindi la scheda grafica all'interno del processore e ha una scheda video abbastanza potente per quello che deve fare un computer base. Benissimo, adesso faccio l'unboxing, prendo la mia bella forbice, alla fine l'ho aperto, eccolo qua, beh c'è il processore, fantastico, piccolissimo anche, bisogna avesse come una monetà da un euro, credo, poco più grande, una da due euro ecco, è un po' vecchiavoto il 2012 però a noi va benissimo, non male le distruzioni con l'adesivo Sempron, non male, facciamo le distruzioni di come montare il dissipatore di tutto, per fortuna, è la prima volta che monta un M1 io, e il dissipatorino che è alquanto ridicolo, con la sua pasta già applicata, è piccolissimo, potrebbe dissipare 25W quindi penso sia sufficiente, e poi abbiamo gli attacchi da collegare all'esilatore, adesso monterò infatti subito questo, monterò il processore e le memorie prima di inserirlo nel case.